A seguito del terremoto abbiamo messo in campo una serie di initiative insieme al Ministero e alle altre regioni collegate. Innanzitutto un contributo straordinario agli elevatori, 400 euro ai bovini, 60 euro agli ovini e 20 euro ai suini. Per ultimo, proprio in queste settimane, abbiamo definito anche un contributo particolare ai transumanti, cioè a coloro che hanno la sede legale all'interno di un comune cratere ma il codice stalla fuori cratere. Parliamo di oltre 40 aziende per un contributo complessivo di oltre un milione di euro.